Lo sportello del cittadino si sta occupando delle attività e delle funzioni della figura proprio del consigliere di parità. Siamo infatti con l'avvocato Gina Lupo, consigliera di parità della provincia di Taranto. Daremo vita ad una serie di puntate aventi ad oggetto lo stalking. Allora, avvocato Lupo, intanto cosa è lo stalking e da dove deriva appunto questo termine, la sua origine? Col termine stalking noi intendiamo una serie di atti persecutori. Ricordo che è un termine inglese, deriva dalla caccia, lo stalker è il predatore, il cacciatore che si acquatta dietro magari un cespullo in attesa della preda. Quindi abbiamo chiara la fattispecie di cui stiamo parlando. C'è un individuo che considera un'altra persona la sua preda e quindi si mette nell'ombra e cerca di appunto agguantarla. Ecco, questo fenomeno si è slatentizzato negli ultimi tempi, ma è un fenomeno antico. Ora forse c'è il coraggio di denunciare, ma è una realtà amaramente sommersa che ora, grazie al cielo, sta emergendo. Beh, noi ci abbiamo messo del tempo. Siamo stati l'Italia, uno degli ultimi paesi che ha istituzionalizzato e ha focalizzato l'attenzione del reato sullo stalking. Parliamo del 2009, ricordiamo che sin dal 1990 invece nei paesi anglosassoni, in America, in Inghilterra e in altre nazioni il reato di stalking era già previsto. Quindi abbiamo avuto una lunga gestazione dal punto di vista di legislazione perché forse si è tentato anche di ridimensionare il fenomeno. Non si è compreso fino a che punto una persona può sentirsi vittima di un reato di stalking, quali sono le conseguenze soprattutto sul fisico e sulla psicologia. Per fortuna abbiamo avuto questa legge importante che ha istituzionalizzato il reato di stalking modificando gli articoli del codice penale. Quindi parliamo di un reato quando parliamo di stalking.